Cari amici del canale, dopo le vedrete meglio quando avvicinerò la telecamera, qui ho tante barre di rame di diverse misure, qui ho due barre di alluminio molto molto grosse. Ebbene in questo video voglio rispondere a una serie di domande che mi fate sul canale, ovvero l'importanza delle barre, del rame, meglio il rame e dell'alluminio ovviamente, però costa di più, bisogna creare quindi un equilibrio. In questo video andremo a vedere quella che può essere una scorta di rame che dovreste avere se siete appassionati di impiantistica, di fotovoltaico, di eolico, di idroelettrico, ovvero aver sempre a disposizione una certa quantità giusta senza esagerare, perché sappiamo che il rame oramai è diventato inaccessibile, i prezzi stanno salendo vorticosamente e quindi avere una scorta mirata può essere importante. In questo video vedremo tanti dettagli che possono essere utili per avere la cosiddetta connessione certa, ovvero che la corrente possa passare senza cadute di tensione, senza surriscaldamenti. Buona visione! Ebbene iniziamo subito col dire che l'importanza della conduttività dei nostri metalli è fondamentale in un impianto fotovoltaico, quindi dobbiamo stabilire alcune regole fisse. Innanzitutto la dimensione delle barre, dei cavi che andiamo ad utilizzare non può essere lasciata alla casualità, ma deve essere calcolata. Come si calcola questa? Ebbene, voi immaginate di acquistare una batteria da 15 kWh, oppure da 30, da 45, da 60 kWh, e quindi Gianni devo avere delle barre più grosse? No, perché non è la batteria che guida le barre, la dimensione delle barre, ma è esattamente quello che ci attacchiamo dopo, ovvero l'entrata fotovoltaica e l'inverter. Questi due parametri sono la produzione e l'assorbimento. Ebbene su questi due elementi si fondano tutti i nostri calcoli. Se diciamo di prendere una barra di potenziale positiva e una negativa di una certa misura, dobbiamo calcolare quanti ampere passeranno. Come si fa? Ipotizziamo di prendere una barra da 40 mm per 10 mm, quindi una cosa molto molto grossa. Dopo vi faccio vedere queste, che sono ancora più grosse. 40 per 10 fa 400, è di rame, quindi 400 per 1,2 abbiamo esattamente 480 ampere che possono passare quasi senza una caduta di tensione. Quindi questa dimensione, questo calcolo vi aiuterà a capire cosa utilizzare, ovvero la dimensione delle barre. Si fa base per altezza e si trovano i millimetri quadri. Moltiplicato 1,2, se decidete di spendere molto meno, perché costa molto meno l'alluminio, come ho fatto io su 60 kWh Victron, ebbene fate la stessa moltiplicazione, 40 per 10 fa 400 per 0,8. e trovate gli ampere che l'alluminio può portare quasi senza caduta di tensione. Ebbene in questo modo abbiamo fatto un calcolo che è abbondante, un calcolo che ci permetterà di avere sempre barre fredde, anche perché questa è la massima portata, e noi dobbiamo sempre calcolare la massima portata del nostro inverter. Poi l'utilizzo sarà ovviamente inferiore. Quando parliamo di busbar delle batterie, nel fai da te oramai abbiamo visto che questi della mania, i busbar lamellari, sono molto di qualità, trasportano bene, molto molto corrente. Quindi sulle batterie diciamo semplici, le cosiddette 1P16S, con questi busbar e queste distanze, leggermente flessibili anche, abbiamo risolto un problema annoso, perché in passato tutte le aziende cinesi erano partite con i busbar di alluminio, vi ricordate quelli grossi, poi si sono spostati sul rame e adesso siamo arrivati a questi, che sono veramente, secondo me, anche un punto d'arrivo per i busbar. Ma quando siamo sul fai da te e vogliamo costruire ad esempio un pacco batterie 2P16S o abbiamo batterie di dimensioni diverse, per cui dobbiamo realizzare il nostro busbar, allora dobbiamo prendere una barra di rame. Ecco che lì è importante, che cosa? L'ho detto prima, non tanto la batteria, ma quanto entrerà, con quale potenza e quanto uscirà verso l'inverter. Quindi dal fotovoltaico e verso l'inverter ci sarà una potenza. Bene, per evitare surriscaldamenti, cadute di tensione, dobbiamo usare la barra appropriata. A tal proposito adesso avviciniamo la telecamera per farvi vedere alcune barre, sia dei busbar autocostruiti per le batterie che volete fare voi partendo dalle celle, e così poi sceglierete anche il BMS, l'equalizzatore attivo, le dimensioni, le distanze, la compressione, e quindi fai da te puro. E poi andiamo anche sulle barre equipotenziali di un certo livello per farvi vedere le dimensioni eccetera e poi come devono essere trattate per diventare ancora più conduttive. Buona visione. Ebbene ragazzi, qua vedete alcune barre. Questa era la classica che si usava quando si costruiva il proprio busbar, vedete? Questa poteva essere 20x3 o 25x3. Poi passavamo a questa, che è un po' più grossa, un po' più larga, un po' più alta. e queste due sono quelle ideali per i busbar. Qui siamo a una 30x4. Questa qui invece è una 25x3. Con queste possiamo costruire busbar impegnativi che possono trasportare veramente tanta corrente. Sui busbar non consiglio a questo punto di passare a queste perché qui passiamo a 6 mm ed è veramente tanta roba. Qui cominciamo ad entrare appunto nel campo delle barre equipotenziali. E guardate qui quanta portata, scusate, possiamo avere. Con questa 6 mm, con questa 10 mm, questa è meno in altezza, ma un po' più larga. Quindi bisogna valutare anche se dobbiamo attaccare tanti prodotti, quindi tanti fori, perché qua se andiamo a fare un foro da 10 e togliamo tanto materiale, qua invece un foro da 10 potrebbe andare meglio. Quindi anche la larghezza viene scelta in funzione di cosa attacchiamo. Chiaramente nell'impianto che sto facendo della Vitron ho in posizionamento queste. Queste qui sono 60x10. Questi sono 600 mm quadri di barra, lo vedete rispetto alla mano. e 600 mm quadri per 1,2 trasporta un botto di ampere che ovviamente dovranno soddisfare il Vitron 4 da 15 kV ampere. Questa qui è una barra veramente, insomma, significativa. Vedete che sia questa, che questa da un centimetro, questa da un centimetro, e poi ci rinunciamo fino a queste, che sono quelle più semplici. È importante andare a sovradimensionare le barre. Adesso vedremo anche alcuni dettagli su come aumentare la conduttività. Ebbene, qui sul mio bancone da lavoro ho appoggiato una barra che è stata appena forata. Allora, innanzitutto i fori, ragazzi, devono essere centrati, quindi non ipotizziamo di fare i fori a mano, ma bisogna usare un trapano a colonna. Però vedete che intorno al foro abbiamo sempre un po' di, vedete qui si vede meglio, un po' di imperfezione, ovvero ovviamente il trapano, la punta, non lasciano un foro perfetto, anche in questi due vedete c'è sempre un po' da lavorare. Ed è, vedete queste righe, ebbene sembra una cosa di poco conto, ma è molto importante che queste barre siano completamente lucidate. Adesso lo farò su questa barra, dopo vi farò vedere il lavoro finito. Qui vi ho appoggiato diversi tipi di carte, queste sono per la rota orbitale, queste sono quelle piatte, questa è quella manuale. Ebbene, io preferisco sempre questa manuale, per un semplice motivo, qui abbiamo barre piatte, questa lavora bene, se siamo con i due movimenti sia così che così, ma il punto è che con la rota orbitale rischieremo di riscaldare. Questo non va affatto nella maniera più assoluta, perché il rame quando scalda comincia a diventare un po' più morbido. Sembra di no anche a bassa temperatura, ma già se cominciamo a riscaldarlo, la lavorazione non viene bene come il rame freddo. Ecco, allora per una questione mia di pignoleria, preferisco usare queste manuali, anche perché il tempo che dedichiamo non è elevato. Che carte usiamo, ragazzi? Se usate le rota orbitali, piuttosto che questa classica piatta da attaccare qui, io consiglio sempre di partire da una grana 800. Questa, vedete, è una 800. Perché? Perché se usiamo grane più grosse, quindi la 500, la 240, andiamo a graffiare il rame. Quindi vogliamo partire sempre, senza dover poi correggere addirittura i grafi che abbiamo fatto noi. Ecco che parto sempre da una 800, arrivo poi su una 1000, questa è una 1000, dopo di questa io passo alla 2000, e qui potreste anche fermarvi, ma per pignoleria di questo canale, io continuo poi alla fine con la 5000. Questa è una carta vetrata impalpabile, non c'è bisogno che usiamo quelle all'acqua, possiamo utilizzare queste a secco, qui vedete che avevo già fatto un pezzo di rame sia qui che qui, e quindi lavorano veramente in maniera efficace. Mi raccomando non scaldate mai, quindi dopo un po' cominciate a soffiare, a pulire, fino a ottenere un risultato buono, lo vedremo fra un attimo, risultato finale con i vari passaggi, e la cosa importante è non fare buchi con che avvallamenti, perché ovviamente la buona conduttività si ha anche quando le superfici sono perfettamente piatte. Ragazzi ho lucidato solo questa parte anteriore, ovvero questo foro che avete visto nelle immagini precedenti, e già vedete la differenza, come brilla questo pezzo appena fatto rispetto a tutto il resto, ma vi faccio vedere la riflessione della luce, come riflette su questa barra, io ho puntato una luce, guardate, perfettamente sulla zona fatta in maniera eccezionale, e adesso vi faccio vedere anche, avendolo lucidato a specchio, come riflette addirittura il tavolo, cioè la gomma con le borchie, viene, qui diventa quasi come uno specchio, rispetto alla zona che invece non è stata trattata, ebbene con questo tipo di lucidatura, abbiamo una conduttività veramente, veramente alta. Ebbene quando abbiamo lucidato fino a questo livello, bisogna a questo punto sgrassare, l'unico prodotto, dal mio punto di vista affidabile, non è assolutamente l'alcol classico etilico, quello che viene chiamato l'alcol denaturato 90-95 gradi, ma è esattamente l'alcol isopropilico, questa è una confezione mia a livello industriale, però nel link trovate anche confezioni piccole, con l'isopropilico togliamo tutte le impronte, tutte le tracce di grassi di lavorazione, e questo va fatto esattamente un attimo prima del montaggio delle barre. A questo punto per verificare se avete, diciamo, un po' lavorato troppo sul foro, per gli appassionati della pignoleria ai massimi livelli, vi consiglio il cosiddetto test di Foucault, ma ragazzi io non voglio aprire adesso qui questa parentesi, la voglio menzionare solamente per coloro che sono veramente pignoli, rovinati, e quindi col test di Foucault, questo lo utilizzavo quando si andavano a costruire specchi parabolici per telescopi satellitari, è tutto un altro discorso, vedete che si crea una disintonia nel foro, proprio perché le linee non sono perfette, in quanto la lavorazione va anche a incidere sul foro stesso, che è un punto di lavoro, chiamiamolo delicato, perché la pressione che si esercita, se non abbiamo strumenti veramente piatti, come le rettifiche, andiamo a lavorare un po' troppo all'interno del foro. Ebbene ragazzi vi ho menzionato anche il Foucault, affinché possiate fare le vostre ricerche, dopo ditemi nei commenti se la cosa vi entusiasma, e questo chiaramente tocca livelli di pignoleria quasi da disturbo ragazzi. Ragazzi un video breve, ma dal mio punto di vista significativo, l'importanza della lucidatura, l'importanza delle connessioni certe, della conduttività, l'abbiamo visto attraverso la semplice lucidatura a specchio di un pezzo di rame. Ci è voluto un po' di tempo, una mezz'oretta da pignolo, vi ho fatto vedere anche il cosiddetto Foucault, che era il test che si fa sugli specchi parabolici, osferici dei telescopi satellitari, insomma storie di vecchi lavori. E a questo punto ragazzi un video breve, ma spero significativo, per farvi capire quanto sia importante non prendere nulla per scontato, non peccare di faciloneria, ma darsi da fare con un hobby che può diventare veramente una fonte di risparmio per casa nostra, ovvero produrre la propria energia elettrica. Se a questo punto il video vi è piaciuto, ma non vi resta che iscrivervi, grazie, e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.